Il Governo regionale siciliano ha dato particolare rilevanza nella legge di stabilità al ruolo pedagogico che lo sport ricopre nella quotidianità del territorio isolano. L'istituzione del Fondo regionale dello sport, ha affermato il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, è una delle misure tra le più qualificanti e significative della legge di stabilità per la sua valenza sociale. Lo sport è un veicolo straordinario di inserimento sociale e di crescita non soltanto fisica ma anche culturale per l'apprendimento di valori di collaborazione e di rispetto delle regole. L'assessorato definirà in tempi brevi le procedure per rendere operativo questo nuovo strumento che il mio Governo ha fortemente voluto. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo la pubblicazione, mercoledì, ganzetto ufficiale, della legge di stabilità approvata dall'Assemblea regionale siciliana lo scorso 17 febbraio. Attenzione rivolta allo sport, che è stata confermata anche dall'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo, Elvira Amata, che sottolinea come non soltanto sono stati mantenuti gli stanziamenti destinati alle diverse discipline e relativi alle normative di settore. Ma il nuovo Fondo regionale dello sport, continua, può contare su una dotazione di 1,3 milioni di euro con l'obiettivo di offrire un concreto sostegno ai giovani di età compresa tra i 6 e i 16 anni che intendano praticare un'attività sportiva in un'ottica di maggiore inclusione sociale e contrasto ad ogni forma di diseguaglianza. Ulteriori risorse sono state previste altresì per le spese di trasporto di atleti disabili per lo svolgimento di attività sportive. L'assessore ha poi concluso evidenziando come siano state adottate precisazioni rivolte all'impiantistica sportiva attraverso specifici fondi finalizzati alla riqualificazione di alcune strutture di cui abbiamo, dice, acquisito la mappatura.